Per il terzo anno consecutivo la città di Stornara ha ospitato lo Stramurales, evento dedicato ad artisti che hanno abbellito le mura della cittadina foggiana, che grazie all'instancabile lavoro dell'associazione Stornara Life ha portato nella cittadina dei reali siti numerosi artisti da diverse parti d'Italia, oltre che dalla Colombia, dalla Spagna e dalla Francia. 50 le opere ospitate sui muri stornaresi, 20 quelle realizzate in questa edizione. Un percorso in cui poter ammirare la verva artistica di alcuni tra i più importanti protagonisti della street art, che hanno trasformato la città foggiana in un vero e proprio museo a cielo aperto. Novità di quest'anno è la pittura con pennello, che ha arricchito ulteriormente la qualità delle opere, oltre a quelle realizzate con la più nota tecnica della bomboletta. Un evento che quest'anno ha visto il patrocino della regione Puglia e del comune di Stornara, come confermato dal presidente dell'associazione Lino Lombardi. Infatti quest'anno per la prima volta abbiamo avuto dalla nostra parte l'amministrazione, in particolare il sindaco Rocco Clamita, che è stato sempre forse il nostro primo fan, è stato promotore lui anche di questa manifestazione, perché noi eravamo titubanti all'inizio, se farla o meno, a causa di questo Covid, di questa pandemia. Lui ha insistito, si è adoperato e ci ha aiutato con un contributo. Per la prima volta abbiamo avuto un contributo regionale per merito dell'amministrazione, possiamo collaborare e questo ci fa pensare che ci sia una collaborazione anche futura che farà diventare ancora più grande questa manifestazione, che è arrivata al terzo anno e chi l'avrebbe mai detto, perché noi siamo partiti non pensando che questa manifestazione assumesse questa grandezza. Un percorso lungo un anno attraverso laboratori dedicati ai più piccoli, come ribadito da Giancarla De Marco. Noi lavoriamo durante l'anno con i laboratori riservati ai bambini delle scuole elementari, abbiamo fatto dei corsi di sei mesi di pittura, scultura, disegno, abbiamo fatto anche gastronomia che comunque è un'arte, abbiamo fatto un corso di avviamento al lavoro, per capire attraverso una psicologa molto brava quali potessero essere le potenzialità di questi bambini. Anche il prossimo anno, comunque contando sui finanziamenti della regione, da settembre a ottobre pensiamo di fare otto laboratori quest'anno, quindi aggiungendo nuove materie. Abbiamo fatto anche fotografia che l'ha fatta lì in Lombardi. Sì, certo, tra l'altro diciamo che i bambini d'inverno non sanno cosa fare, venivano da noi di corsa, insomma, sono piaciuti tantissimo questi laboratori. Purtroppo interrotti dal Covid e continuati comunque online da dove era possibile per non perdere diciamo anche le ultime elezioni. Comunque hanno avuto tantissimo successo.